Versilla ancora una volta a teatro di un episodio di criminalità. Questa volta siamo a Torre del Lago, in via Martiri di Sant'Anna, dove sabato sera una coppia di anziani, 88 anni la signora, Nadia Nincheri, e il marito, 83, Alessio Gozzi, hanno ricevuto la visita di quattro banditi, nazionalità probabilmente dall'est, come poi ha raccontato il diretto protagonista di questa vicenda. Ancora una volta, come detto, un episodio di criminalità dopo quelli avvenuti a Lido di Camaiore e Pietrasanta. La coppia di coniugi, rientrando a casa intorno alle 19.30, ha trovato in casa ad attendere i banditi, travisati che hanno cercato di far capire loro che si trattavano di carabinieri. Il marito però non è cascato nell'inganno e ha capito subito che si trattava di banditi. Hanno prelevato oro e soldi da una prima cassaforte. La banda poi, in una seconda cassaforte, è stata aperta con un frullino. Hanno prelevato altri oggetti per un totale complessivo di circa 30.000 euro. Poi hanno rinchiuso in una stanza e sono fuggiti il marito e la moglie. Poco dopo hanno dato l'allarme ai carabinieri che sono intervenuti per le indagini di rito. Difficile ipotizzare se questa banda sia la stessa che ha colpito anche nei precedenti casi in Versilia.